Fra, voi conoscete la leggenda dello Slenderman? Vedi, lui gira nelle foreste No, fra, ma qualcuno ha messo, c'è scritto aiutami Vuol dire che qualcuno è in pericolo, non pensi Per forza Fra, torniamo in casa, Dio santo, otto volte te lo dico Fra, ho stra paura, fra Dai, capo, andiamo, zarbi, andiamo, chiudite la porta Cosa c'è? Ma che, come viene quello? Cosa c'è? Lo vedi? Ma che, fra Di cosa stai, di cosa stai parlando? L'hai visto? Cosa? Vieni qui, vieni qui, vieni qui Cosa? Cosa c'è? Lo vedi quel foglio lì? Zia, ma cosa? Oh, ma sei subito, fra Quel foglio! Fra, fra, vieni a vedere, che cazzo, cos'è? Oh, ma l'hai visto? No, sarà Vincenzo che l'ha messo prima Ma che cavolo è? Sarà uno scherzo, aspetta un attimo Aspetta che accendo la lampada Fra, vieni qua Cos'è? Non è che c'è tutto sopra qua, dice zarbi? Eh, ma che cavolo Non guardare o ti prende Ma che cavolo è che io potrei avere un'idea di che cos'è? Ma cos'è, raga? Io potrei avere un'idea di che cos'è sta roba Ma chi l'ha messo? No, ma non credo Spero che non sia quello Aspetta un attimo Guardate tutti gli altri alberi intorno Guardate gli altri alberi intorno Se trovate qualcosa Ditemi se vedete qualcosa Fra, no, prendi il foglio Prendi il foglio Prendi il foglio No, se è quello che sto pensando io No, Fra, Fra Cerca se trovi altri fogli Raga, no, 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 aspetta Dove? Dove? Fra dove? No, no, stai scherzando No, no, spero che non sia quello che sto pensando Raga No, 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 no Guarda che questo è un problema Ma dove? K ha ragione, è lì davanti, Fra No, no Fra, questo è un problema, eh Dimmi che Come gli ha messi Casus, Fra? Casus, ma se Casus hanno andato via sto pomeriggio Che gli ha messi Sì, era quello che stavo pensando Fra, Fra, sai cos'è questo? Sai cos'è questo? No, aspetta Cosa stai facendo? Ma chi è? Dai, capo, non fare scherzi Sei te che hai fatto tutte ste robe Ammettilo Sì, sta ridendo È stato lui, bastardo No È stato lui, Fra Sai cos'è questo? Cos'è? Fra, è lo Slenderman Ma che è lo Slenderman? Questa sono le pagine dello Slenderman Ma non direi sciocchiezi No, 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 no No, questo è lo Slenderman, bro Sai, quello che sto pensando Fra Fra Stai buono Questo è uno scherzo Fra, no, no, no Questo è uno scherzo di pessimo gusto Questo è uno scherzo Allora O Vincenzo e Casus in realtà hanno fatto finta di partire e si sono preparati sto scherzo No, Fra Fra, voi conoscete la leggenda dello Slenderman No, no, no È praticamente un mostro No, è praticamente un mostro alto dai 2-4 metri Sta a smilzo Che si confonde stratanto con gli alberi È tipo Tipo rapisce i bambini Dai, smitele di fare scherzi No, sei tu che stai facendo No, sei te È lui, è lui Ma non sono Fra, ma se siamo stati in discoteca fino ad ora Ma che cavolo dici No, no Oh, quando siamo andati c'erano o non c'erano Chi è passato di là? L'avete visto? Ma come facciamo la macchina lì? Ma secondo te io quando esco guardo sugli alberi se ci sono dei fogli Fra, ma l'avremmo notato, no? Sì Luminoso No, no Ma che è? No Praticamente è un mostro che è alto e rapisce i bambini Cioè tu non lo puoi guardare negli occhi È vestito elegante È tipo in smoking Ah, è quello di Mines Sì, sì Con tanti tentacoli dietro Ha la faccia completamente bianca Tipo come se fosse avvolto nelle bende Non lo puoi guardare negli occhi perché tipo diventi pazzo Otti, ascolta No, fra A me questa è una sicura grande cavolata Fra, no Otti, senti Facciamo Allora, ci sono otto pagine Otto pagine da trovare Andiamo dentro casa, per favore, fra No, no Scusa, se tu trovi le otto pagine che succede? E io che cavolo ne so Non le ho mai trovate, sai Ma perché, Damiano? Andiamo dentro casa, no? Per sicurezza Penso Otti, voglio entrare Penso che sia Oh Cosa? Avete sentito? No Guarda, guarda in fondo Fra, c'era un rumore No, no, no Io ho sentito qualcosa muoversi da quella Fra Che cos'è? No, mi sembra di aver trovato l'altra pagina Aspetta un attimo C'è un'altra pagina Guarda la città Sì Sì No, 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 no Fra Fra, io c'ho una paura Venite Venite di qua Venite qua Venite qua Fra, la sto scendo addosso Fra C'ho paura anch'io Fra C'ho paura anch'io Tantissima Fra, fra, fra Ma che cavolo No Fra c'è la casa aperta No, ma secondo me Perché stiamo andando nella foresta? Torniamo a casa, fra No No Ormai abbiamo iniziato No, secondo me è uno scherzo di capo È troppo tranquillo, secondo me No, no, fra Fra, torniamo in casa, vai No Dobbiamo Che spavento Che spavento Otti No, fra, non faresti scherzi qui perché veramente finisce male Ma che scherzi Ascoltami Prosegui No, fra È lì la pagina La vedi Fra Ascolta Segui me No, no Io ho una paura Andiamo via, fra Eh Andiamo dentro No, ormai dobbiamo proseguire Otti, otti, otti No, fra Eccola lì Fra, eccola lì Fra, fra Ma che cavolo è No, no, no Sto guardando bene ogni singola roba Bro Bro Ma cos'è Ma che cavolo Eccola qua Eccola qua Un'altra pagina Fra C'è scritto aiutami C'è scritto aiutami Ma perché ci sono queste cose qui Non lo so È la terza pagina che abbiamo trovato No, no Ma chi l'avrà No, no Secondo me è uno scherzo di Vincenzo e di Casusan Per forza Fra, torniamo in casa, Dio santo Otto volte te lo dico Torniamo in casa No, no Cioè, ormai ne abbiamo trovati tre Ma ormai cosa Dobbiamo trovare le altre Ma che tre Ne hai trovato 26 Tre Uno, due, tre Questa è la terza Dobbiamo trovare la prossima Ma perché No Fra, ma qualcuno ha messo C'è scritto aiutami Vuol dire che qualcuno è in pericolo Non pensi No, no raga A sto punto dobbiamo trovare le altre pagine No, ma perché Perché Allora Fra, ma che Hai sei un fifone Non so Hai paura No, fra Ma chi se ne prende le pagine Sì, sinceramente qua è un po' Ma chi se ne prende le pagine È tanto buio Siamo in mezzo alla foresta Di notte Con la casa aperta Mi spieghi Fra, dobbiamo trovare le altre pagine Dobbiamo trovare le altre pagine A sto punto Perché 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 di sì Sarà attaccata qualche albero Per forza No, no No, è una leggenda che ho sempre Ho sempre conosciuto Ma non so Non so se sia vera o no Sinceramente Sto tremando Fra No, no Da qualche parte ci deve essere un'altra pagina Per forza Per forza Io voglio dire in giro Perché Ma cos'è? Avete paura? Non so Sì Tanta Non si vede niente Se ci fosse per esempio qui nel bosco Un fratno è incostamente carcerato No, no Da qualche parte ci deve essere una pagina bro A destra A destra A destra Ma perché siamo nella foresta? Oh L'ho trovata È là Fra Fra No, no, no Questa è la quarta Quante ce ne sono? Otto in tutto Fra Noi ne abbiamo già tre No Eccola qua Eccola qua No, cosa c'è scritto su questo? Raga aspettate che illumina il resto Always watches noise Guarda sempre ma non ha occhi Eh perché lui ha la faccia tutta bendata Ma chi lo Slenderman? Sì lo Slenderman Ma era elegante Fra Sì è elegante ma Adesso ti farò vedere delle foto su internet No, no Torniamo in casa Dobbiamo Ci sono altre quattro pagine da trovare Ok Torniamo in casa e controlliamo Controllare la casa Fra è tutto aperto Cioè noi ci siamo andati via con la casa aperta Fra andiamo a prendere le chiavi La chiudiamo e poi torniamo Ok No, 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 no Fra Guardate Guardate bene se trovate altre pagine Guardate bene Ma dove? Sugli alberi Fra ma perché? Sì no Ascolta Io voglio solo rientrare in casa Oh Oh Perché vuoi tornare in casa? Ma hai paura Non so Fra No, no No ma Io Io questo scherzo proprio no No Ma hai fatto due occhi per forza No, no, no Sì sì No, no, no Niente L'hai fatto tu Fra ma se siamo stati insieme tutta la sera Ma che cavolo dici? Ma come ho fatto poi Sì E non te ne sei accorto tutta la mattina Abbiamo preso la macchina anche Che è che la passano Fra ma quando siamo tornati non c'erano Zerbi c'era mia moto qui Me ne sarei accorto Era qui la pagina No, no, no Ehi Raga avete sentito un rumore No, no, no C'era un rumore Fra Ho stra paura Fra Dobbiamo chiudere Ascoltate Dobbiamo Dobbiamo assolutamente Chiudere tutte le porte della casa Chiudi, chiudi, chiudi No Sta tutto No, no, no Ma ci mancano quattro pagine da trovare Aspetta Guardiamo No, no Un attimo Dobbiamo No Fermi raga Potrebbe essere Potrebbe essere No Aspetta che chiudiamo Aspetta che chiudiamo Dietro Una porta su dentro Raga Chiudiamo con gli infissi Voglio Voglio essere sicuro Aspetta guardiamo Ma che pagine Ascolta Ascolta Andiamo ad analizzare le pagine Ma Mettile Non c'è nessuno qua Allora Qui cercare di un figo però L'abbiamo trovato Non guardare o ti prende Cos'è questa roba? È una foresta E lui Vedi che si Ah ma costruiva un Slenderman Sì perché lui si confonde Esatto Lui si confonde tra gli alberi Perché tipo ha tanti tentacoli Che si inclinano Qualcuno Ha bisogno di aiuto E guarda sempre Ma non ha occhi Adesso Cerca Slenderman Su internet Guarda delle foto Fra Guarda delle foto Fidati No 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 Guarda qua Ma che è un Vedi lui gira nelle foreste È altissimo Ha la faccia abbendata Ed è vestito elegante E rapisce i bambini Tipo Quando ti si avvicina Da quello che dicono Vedi tipo Fra guarda qui Oddio che brutto No 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 Ma secondo me è uno scherzo di caso Usano di Vincenzino Per forza Chiudi Zerbi Chiedi No 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 Per forza Per forza No 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 dobbiamo guardare il resto della casa No non sono Non sono per niente tranquillo Aspetta Fra dobbiamo chiudere tutte le porte Eh perfetto C'è ancora una aperta Per fare l'altro motivo Ok No lì c'è Fra lì c'è la rete No no è impossibile Qua c'è la rete Possiamo stare tranquilli Allora Questa era la camera di Di Casusan Ok Guarda sotto il letto Sotto il letto Sotto il letto Non ci sta nessuno No non c'è Non c'è nulla Bro 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 Il bagno Il bagno qua No non c'è niente È libero No Cerca 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 Zerbi Zerbi Chiudi quella porta No 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 Chiudi la chiave No Fra Vai tu Ma vieni con me Scusa un attimo Vieni con me Chiudi i cari Chiudi No sicuramente Sicuramente ci sarà qualcos'altro Là fuori Ma qualsiasi cosa che ci sia là fuori Porta le chiavi Porta le chiavi E dove sono Non lo so Dobbiamo dare la troia No 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 Fra Non lo so Non lo so Ma che cavolo Boh No qua non c'è niente No dobbiamo Fra Se è su Andiamo Aspetta aspetta Giù per di qua Ma giù per di qua Non c'è No ma qui vai tu sotto Quindi io non ci vado da adesso No ma È troppo È troppo alto Per starci qua dentro Sinceramente No no C'è una paura Ok C'è C'è la porta chiusa Non c'è nessuno Non c'è Non c'è nessuno raga Ma voglio andarmene di qua Voglio andarmene di qua No 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 Voglio andarmene Andiamo su No 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 Ragazzi Raga In questo bagno Non c'è nulla Ok Qui Fra No non c'è Niente No niente Ok vabbè Allora Poi è in camera mia Poi è in camera di capo Vabbè qui non c'enterebbe nessuno Tranquilla Sì esatto Il mio bagno No Ok Fai controllate nella doccia No non c'è niente qua Niente Niente È l'ultima È la stanza di capo raga Chiudi la porta No Era aperta Fra È aperta Raga No 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 Ok Hai lasciato Tutte le luce aperte Vai 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 No Sotto letto è impossibile Perché è troppo bassa Aspetta qua No Controlla tu No 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 Perché c'è una sedia Ah ma quella che ho rotto io No Fra Dai ti sembra il momento di spantarmi Fra Ci sono Ci sono delle urme per terra No 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 Fra Guarda ci sono delle urme per terra No fra ma magari sono i segni del mitra di teatro editati Fra Ci sono delle E là c'è un poster di foto Andiamo a dare un'occhiata Vai tu No 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 E sembrano dei bambini Sembrano dei bambini E lo Slenderman rapisce Raga Guardate Orme di piedi Non confonderti con quelle di teatro in cantina Raga ma che strano Sono molto Piccole Che strano Per essere Magari sono le scampi di caffa Quando ci sono il 2007 No Cioè Sono delle urme strane Qua c'è polvere da un sacco di tempo Vediamo La mia urma Com'è È completamente Raga Ma le vedete le urme per terra Vediamo una mia a confronto Sono completamente diverse No Qua c'è un poster di bambini Fra Devi sapere che Lo Slenderman Rapisce i bambini No Io non No no Raga Dobbiamo trovare le altre pagine Per forza Dobbiamo scoprirne di più su sta roba Andiamo Andiamo Grazie a tutti